Nicolò Raniolo dice no a Sabrina, ecco perché, uomini e donne Uomini e donne, Nicolò Raniolo dice no a Sabrina, ecco perché. Nuova registrazione del trono classico di uomini e donne. La puntata è stata quasi totalmente dedicata a Sabrina Gio e alla sua scelta. La tronista ha infatto deciso di concludere il suo percorso. Si parte dai video dei migliori momenti trascorsi con Nicolò Fabri, per poi passare a Raniolo. Questultimo si era eliminato, ma la Gio gli ha fatto recapitare un video messaggio con cui lo ha invitato a venire in studio nel corso dellultima puntata. Oggi, il corteggiatore decide di entrare in studio. Inoltre, Sabrina ha trascorso un'intera giornata insieme all'altro ragazzo. I due sono stati moto bene e lei rivela di volersi buttare a capofitto e di non preoccuparsi più del parere altrui. In studio, si commenta l'uscita e seppur sembra che stiano molto bene insieme, Gianni e altri credono che con l'altro Nicolò c'era molta più emozione. Si passa poi sulle poltrone rosse al centro dello studio. La tronista chiama per primo Fabri a cui comunica con grande difficoltà di non essere lui la scelta. Il ragazzo comprende, ringrazia e balla per l'ultima volta con la donna. Entra Raniolo e Sabrina gli rivela di essere proprio lui la sua scelta, nonostante sappia già di ricevere un no. La ragazza tiene però a chiarire di averlo scelto perché, per la prima volta, vuole fare una cosa per se stessa e non per gli altri. Nicolò risponde di no e spiega di non aver provato quel qualcosa in più che possa farlo uscire dalla trasmissione insieme a lei. La ghio comprende benissimo le motivazioni del corteggiatore che, inoltre, ci tiene a sottolineare il fatto di apprezzarla molto come persona. Anticipazioni uomini e donne, Paolo in confusione, lite con Nicolò Brigante, prime esterne per i nuovi tronisti. Paolo Crivellini inizia ad essere un po' confuso. Dopo la lite con Angela, il tronista ha cercato un confronto con la ragazza. Lei non è voluta uscire in esterna dopo ciò che è accaduto nella precedente registrazione e nel frattempo, Crivellin ha deciso di portare fuori Marianna, una delle ragazze nuove. In studio tutti, o quasi, ha attaccato il tronista. Secondo Nicolò Brigante, l'ex tentatore è un po' troppo pesante e non fa altro che allontanare tutte le donne. Prime esterne di conoscenza per Brigante, Sara Affifella e Niloufar. Nicolò incontra tre ragazze per capire chi portare in esterna, ma lui decide di non portare nessuna, mentre esce con Virginia. Le due nuove troniste, invece, una con Giordano e l'altra con Luigi. Grazie a tutti!